Aiutare chi aiuta nasce così il nuovo strumento voluto dalla Fondazione Arezzo Comunità ideato per i caregiver Aretini. Si tratta di uno spazio web dove è possibile in maniera semplice ed immediata conoscere quali sono i diritti e le opportunità di chi accudisce una persona fragile. Abbiamo deciso di costruire un spazio semplicissimo online, quindi accessibile veramente a tutti, che dà delle indicazioni importanti per capire come il caregiver, il caregiver è il familiare che si occupa di un familiare che è in condizioni sanitarie piuttosto difficili, perché è malato, perché ha una malattia di lunga durata, per capire quali diritti ha, e ve ne sono molti, e quali opportunità. È un portale che fa parte del grande mondo della Fondazione Arezzo Comunità che tra gli obiettivi che aveva e che ha è quello anche di rendere semplici i diritti dei cittadini, quindi stando accanto con discrezione. Non ve ne sono molti in Italia, ma questo è l'unico che ha anche una rete di associazioni a disposizione, che ovviamente ringrazio, perché oltre ai diritti ci sono le occasioni di crescita e di tenuta sociali di una comunità, e quindi per esempio, faccio sempre questo esempio perché è forse il più calzante, il fatto che chi ha a casa un malato di Alzheimer possa contattare direttamente l'associazione che si occupa dei familiari che hanno un familiare malato di Alzheimer è un modo per non farli sentire soli, per metterli dentro una filiera di rapporti e di relazioni e anche per superare un momento particolare della vita che comunque con gli anziani è ormai un elemento quasi di quotidianità. Grazie